Il Presidente della Sesta Commissione Sanità all'Assemblea Regionale Siciliana, Giuseppe Di Giacomo, nell'ambito dei poteri di indirizzo e di controllo alle commissioni legislative dell'Assemblea discendenti dallo Statuto della Regione e dalle norme del regolamento interno, ai sensi dell'articolo 2,3 bis, legge regionale 15 maggio 2000, in riferimento a fatti che hanno interessato per intere sessioni i lavori della Commissione, che, all'onore di presiedere, si è rivolto al Presidente della Regione Crocetta, all'assessore regionale per la salute Baldassare Gucciardi, e per conoscenza al Presidente dell'Arso Giovanni Ardizione, ai quali chiede notizie dettagliate e, per la verità, più volte sollecitate in varie forme, riguardo alla verifica della sussistenza di eventuali profili di legittimità nella nomina di responsabili di direzioni generali, sanitarie ed amministrative e unità operative nelle aziende sanitarie provinciali, ed ancora lo stato dell'arte del sistema assicurativo sanitario regionale ed eventuale esposizione della Regione a danni economici futuri e quello del decreto di integrazione sociosanitaria, che è più volte annunciato, come quasi definito e tuttora non pervenuto in commissione, il conferimento dell'incarico di responsabile dell'unità operativa presso l'azienda sanitaria provinciale di Palermo al veterinario dottor Francaviglia, quello di direttore sanitario presso l'ASP di Palermo al dottor Noto e quello di direttore amministrativo presso l'ASP di Palermo al dottor Guzzardi, ed ancora la verifica di eventuali profili di legittimità, di danni all'erario e all'immagine arrecati all'ASP di Palermo e al servizio sanitario regionale in relazione agli atti firmati dai dirigenti della stessa azienda sanitaria, poi revocati, quella di legittimità nel sistema di reclutamento dei primari presso l'ASP di Lagusa, le notizie sull'esito della gara di efficientamento energetico dell'ASP, la mancata trasmissione in commissione della convenzione con l'ISMAT di Palermo, gli esiti consuntivati, somme erogate, eventuale rinnovo della convenzione con l'ospedale Bambin Gesù e orientamento del Governo sulla richiesta di parere alla commissione, la determinazione del Governo sull'eventuale rimodulazione della convenzione con l'Oasi di Truina, la mancata nomina del direttore generale del servizio SEUS 118, lo stato dell'arte dell'attuazione della legge sui rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e infine le risultanze delle valutazioni di performance dei direttori generali delle aziende sanitarie provinciali e di quell'ospedaliere siciliane.